mister impressioni sulla partita come ha visto la squadra ma come detto è stata una partita vera e la squadra ha chiesto una prestazione di vigore la squadra mi è piaciuta un pochino dovevamo fare un pochino meglio nella gestione della palla ma questo è anche un po normale in questo momento c'erano anche in campo tanti ragazzi nuovi abbiamo visto all'opera i nostri due giovani aggregati alla prima squadra anche lo stesso su ci ha avuto possibilità di entrare in campo quindi era una gara dove c'era da mettere dentro mettere dentro corsa da mettere dentro condizione ci ha permesso di preservare anche qualche qualche giocatore che non era in perfette condizioni e quindi ci sono state delle indicazioni positive e anche qualcosa che c'è da migliorare ma questo in questo momento della stagione dopo tanti cambiamenti così è normale e ha sempre detto che il lavoro non la preoccupa no mai questa è l'unica cosa che noi io il mio staff la società tutti sappiamo fare questo lavorare la testa bassa quindi sappiamo cosa ci aspetta ma non la dobbiamo affrontare con con timore o con preoccupazione dobbiamo dobbiamo affrontarla preparati sapendo che all'inizio sarà anche duro difficile perché è un impatto forte però noi abbiamo delle dei giovani interessanti ragazzi che tutti insieme aiuteremo a crescere prima uscita per l'ultimo arrivato bistrovic che impressione le ha fatto un ragazzo ragazzo che ci dà una mano lui è chiaro è arrivato ha fatto un paio di allenamenti oggi è mi anche piaciuto ma come ho detto prima non mi serviva la prestazione di oggi per vedere è un ragazzo che ci può dare una mano domani allenamento qui a parma poi inizia la settimana di lavoro prima della gara ufficiale prima della prima gara ufficiale sì assolutamente una settimana domani facciamo più allenamento poi stacchiamo un giorno poi riprendiamo lunedì e da lì facciamo anche una settimana un pochettino più leggera perché abbiamo caricato tantissimo e questo si vede perché comunque la squadra corre al ritmo ora c'è da pulire i giocatori e lo faremo anche in questa settimana di avvicinamento una partita che comunque ci teniamo qualche una partita coppa italia in casa con il cittadella che tra l'altro è una è una squadra che a noi non è particolarmente è un po indigesta diciamo così dai grazie grazie a voi